Dopo Macri, Ghinelli e Pasquini, un altro degli imputati eccellenti del processo Coingas ha deciso di raccontare in aula la sua verità. Si tratta di Pierettore Olivetti Rason. L'avvocato fiorentino, accusato di peculato per gli oltre 400.000 euro versati dalla partecipata del Comune al suo studio legale in diverse tranche, ha reso dichiarazioni spontanee di fronte al collegio presieduto dal giudice Filippo Ruggero. Allo studio di Rason furono commissionate gran parte delle ormai note consulenze d'oro considerate dall'accusa non necessarie ed eccessive. Ha ricostruito perfettamente tutta la vicenda, ha dimostrato che c'è stata un'attività effettiva e i corrispettivi che sono stati riconosciuti sono corrispettivi. Comunque questo è il succo fondamentale della difesa dell'avvocato Olivetti, cioè dimostrare che non è venuto qui a non fare niente come si contestava inizialmente, è venuto qui, ha fatto, ha lavorato, ha prodotto e giustamente è stato pagato per quello che ha prodotto. Il legale fiorentino poi ha ripercorso i rapporti con Coingas e con Staderini, definito dallo stesso Rason non all'altezza. Non è che l'ha dichiarato l'avvocato Olivetti, l'hanno dichiarato tutti i testi che sono stati sentiti, numerosi testi hanno confermato che Staderini non era in grado di svolgere questa attività, non è che è un dato, mi sembra pacifico, acquisito nel corso dell'istruttore ripattimentale. Nel mirino della Dicos erano finite anche le consulenze affidate ad un altro degli imputati, il commercialista Aretino Marco Cocci, in aula questa mattina il consulente incaricato dalla sua difesa. Ha illustrato a suo parere la congruità delle cifre pattuite nei contratti tra il dottor Cocci e Coingas rispetto alle tariffe applicabili per i dottori commercialisti. Il dato numerico che emerge è che applicando i minimi tariffari, quello che è stato, secondo quello che dice il consulente, quello che è stato applicato è oltre la metà del minimo. Con l'udienza di oggi si chiude la fase dibattimentale del procedimento. Tutto è rinviato al 20 gennaio, data in cui è prevista la requisitoria del procuratore Roberto Rossi, seguita dalle arringhe dei difensori, poi la sentenza.